E quest'anno le palme sono anche per i piccoli Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Eh sì, la domenica delle palme è un momento speciale per i bambini di solito che durante la messa alzano orgogliosi il braccino tenendo stretto stretto quel ramuscello di olivo o quella palma intrecciata La palma l'abbiamo fatta ma quest'anno rendiamo ancora più gioiosa questa domenica che non potremo vivere in prima persona da fedeli nelle chiese ma potremo vivere in prima persona da famiglie nelle nostre case e allora costruiamo per i nostri figli delle palme bellissime che potranno portare con loro durante tutto l'anno nella cameretta e ricordare questa Pasqua così speciale, così diversa però la addolciremo anche un pochino e allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la palma dei piccoli come si fa Ed ecco l'occorrente per il lavoretto della palma dei bambini bellissimo per la domenica delle palme ma anche per Pasqua come momento simbolico dello stare insieme un paio di forpici della colla aceto vinilica della carta verde se volete di due colori della carta marrone se volete di due colori la mia carta è 35 cm x 25 cm ma voi potete farla delle dimensioni che preferite cominciamo subito e cominciamo dalla carta marrone scuro cominciamo a piegare la carta per un centimetro e mezzo circa così quindi giriamo il foglio e pieghiamo un po' di più ripieghiamo il foglio e pieghiamo e pieghiamo a metà della piega precedente quindi pieghiamo così a scaletta adesso cosa facciamo pieghiamo il foglio e andiamo ancora avanti di mezzo centimetro quindi giriamo il foglio indietro e pieghiamo a metà della piega precedente così e continuiamo così per tutta la lunghezza del foglio quello che avremo sarà questo ok una fisarmonica un po' sfalzata adesso contiamo quante pieghe ci sono quante fessure una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e tagliamo una striscetta di una dimensione che sia leggermente sporgente rispetto alle striscette che abbiamo fatto così ok e infiliamo queste striscette ognuna in una fessurina con la colla sporchiamo l'interno di tutte le righe e dopo aver messo la colla inseriamo le nostre fascettine appiccichiamo adesso i margini laterali in modo che le sovrapposizioni rimangano ben ferme l'una sulle altre e incolliamo anche le pieghe sul retro ok abbiamo questo mettiamolo da parte prendiamo adesso della carta verde e pieghiamola a zig zag questa volta uno zig zag a ventaglio non scalinato quindi ogni pezzo uno sull'altro senza spalzarli su un pezzo di carta dobbiamo creare questa sagoma ok apriamo il nostro foglio lo tagliamo a metà se no ci viene troppo spesso da tagliare e su uno dei margini ricalchiamo così in maniera del tutto imprecisa la sagoma della palmetta della foglia della palma e quindi la ritagliamo sarà proprio la foglietta della palma bene facciamo così con tutte le foglioline da fare create una decina di foglie adesso andiamo a costruire la nostra palma come prima cosa ricordiamoci qual è il lato ben finito è quello dove mancano dei pezzi di marroncino e allora facendo pressione con una matita arrotoliamo ben bene questo cartoncino arrivati a questo punto pressiamo bene perché il tronco della palmetta è quasi pronto adesso ad una ad una dal centro verso l'esterno dobbiamo fare in modo che su questo tronco si affaccino le nostre palmette e allora un po' di colla sul margine ma non solo e su tutta margine superiore e inferiore tutto ma anche su tutta la lunghezza della palma le nostre palmette iniziamo appoggiarle una accanto all'altra io le metto all'inizio più piccole e verso la fine un po' più grandi facciamola aderire punto di colla su tutte le palmette e arrotoliamo come avevamo fatto prima seguendo le tracce del vecchio arrotolamento e adesso a poco a poco fate fiorire la vostra palma aspettate che si asciughi tutto e anche per i vostri bimbi ecco la palmetta da sventolare domani ascoltando la messa e allora preparate le vostre palmette della domenica delle palme facile facile divertente divertente e di grande grande effetto e noi ci vediamo dopo le foto ciao bene divertitevi con i vostri piccolini a costruire le palme per tutta la famiglia sarà un modo per far vivere loro la pasqua in maniera più partecipata dal momento che non si può uscire e non si può andare veramente a viverla come l'abbiamo sempre vissuta un modo diverso che instillerà in loro un ricordo bellissimo di un momento un po' particolare che passerà perché andrà tutto bene se questo video vi è piaciuto regalatemi una condivisione e un pollice in su mi piacerebbe anche tantissimo vedere le palme che voi realizzerete con i vostri piccolini sulla mia pagina instagram taggando arte per te oppure postate sulla mia pagina facebook arte per te cercate il pennello bianco sul fondo rosso e mi trovate su tutti i social non mi rimane che salutarvi augurarvi una splendida preparazione alla pasqua e darvi appuntamento sempre qui per il prossimo video da ombretta ed arte per te tutto alla prossima volta ciao